Resident Evil Zero Allora, eccoci qua con Resident Evil Zero, Billy e Rebecca di nuovo uniti. L'episodio scorso abbiamo proseguito a scendere probabilmente per questo stabilimento di rifiuti e abbiamo ribattuto una seconda volta il Proto Tyrant con Rebecca usando un po' la Magnum. Adesso sono qua e dobbiamo trovare la scheda magnetica che ci servirà per proseguire e arrivare alla stanza di salvataggio. Quindi la scheda magnetica si trova dove c'è il muletto ma ci serve la batteria che è giù. Ok, ma io volevo sapere cos'era sta roba qui. Acqua industriale, prendiamo. Andiamo. Esamina. L'acqua è stata trattata per rimuovere le impurità. Va bene. Non è che va combinata così a caso proprio con il decolorante. No, va bene. E però giù c'è anche la batteria. Aspetta. Qua ho già ripulito, c'era un insetto. E fuori dalla porta due zombie. Eeeh, dunque... C'è qualcosa in cima allo scaffale, sì. Batteria... Eh, non me la fa prendere perché sono pieno. Ammolliamo questo. Un attimo. Sì. Ah, batteria vuota. Allora va riempita. Aspetta. Sì, ma non stiamo lì in par... Due ce ne sono. Aspetta, ho un'idea. Ho un'idea. Andiamo su un attimo. Vabbè, lui ha già sparato. Ok. No, vado giù solo con Billy e usiamo la doppietta. Se no... Ok. Lui ha già sparato. Eh, per forma, pensa. Cioè, aspettavano solo che qualcuno prendesse la batteria sullo scaffale. Per risvegliarsi in settoni. Attenzione. L'avrò preso. Basta. Quanti colpi mi sono rimasti? Eh, siamo tornati più o meno... Con un colpo in meno. Come eravamo all'inizio. Perché poi sti colpi li abbiamo trovati. Eh, va. Addio santo. Ci fa... Il gioco ci fa un regalo. E subito ce lo toglie. Praticamente. Ok. Ma d'altronde... Vabbè, meglio usare la doppietta che le granate. Quello sì. Allora. Eh... Aspetta un attimo. Ok. Dobbiamo prendere... Fa vedere. Esamina. Un batterio alto potenziale utilizzato per fornire corrente ai macchinari. Sembra inutilizzata da molto tempo. Il liquido si è completamente asciugato. Non devo fare mix strani, vero? Perché lì c'è una bombola. Avevo visto che c'era una bombola. Adesso vediamo. Cioè mi basta... Eh, se io allora deposito un attimo questo. E prendo questo. Faccio combina. Eh no, vedi? Che non funziona. Non funziona. Sarebbe troppo semplice. Secondo me devo fare... Adesso ho il decolorante. Ma dovevo fare dei mix... Con l'acqua industriale. L'acqua è stata trattata per rimuovere le impurità. Devo metterci il decolorante. Non credo. No. Ok. Fa vedere. Qua bombole non ce ne sono. Ah, già che sono con Rebecca. Aspetta un attimo che qua fuori... Eh, vai, c'erano due zombie che ho fatto fuori. Qua ci sono dei colpi. No, dei colpi. Ok. Munizioni e pistola. Quanti me ne hai dati? Un po'. Ok. Così almeno... Mi ha fatto rifornimento. Ok. Allora, fammi vedere... Un attimo. Oppure vediamo se la soluzione magari è qua da qualche parte. Lo scherzo mostra uno strano grafico. Basta. Quindi non dice nulla. La capsula contiene la larva di qualche forma di vita. Vabbè, ah sì, quello del... Ok. Il probabile insetto. Eh, vedi, qua c'è una bombola. Vi faccio. Sembra essere una sostanza chimica. Metto un apparecchio così. Sì. La sostanza blu e il decolorante sono stati mescolati per ottenere acido... Ah, acido solforico. Che è forse quello che ci va. Combina. Ecco, infatti. Liquido per batteri. Sì, ma se io non avevo il decolorante cosa facevo? C'è io, ma questo me lo son portato dietro da... Da mo'. Vabbè. Cioè, qua c'è solo una bombola. No, ce n'era un'altra... Eh, non mi ricordo dove. Però ce n'era un'altra rossa da un'altra parte dove io avevo provato. E poi mi son detto, no, lasciamo del colorante che mi piace di più. Così avevo detto. Esatto. Vabbè. Ok, prendiamo il nastro. Quindi. Allora, prendere le piantine fuori discussione. Che sarebbe... Bello poterlo fare. Ma no. Devo tornare indietro. Devo tornare indietro. Però io non so. Se ci... Per azionare il muletto ci vogliono tutti e due. O ne basta uno. Vabbè, andiamo insieme. Magari. Allora, qui non c'era pericolo, mi pare. Esatto. Ma qua c'erano le... Sanguessughe. Che io però non mi fido. Cioè, queste qua io ho paura che se me ne vado e non le schiaccio tutte cioè, se non le schiaccio tutte e lascio qua un mio personaggio succede qualcosa. Ok. Adesso qui... Aspetta. Tu... Stai qui un attimo. C'erano... Esatto. Che io ho passato in velocità perché non me l'aspettavo l'episodio scorso. Due zombie. Ah, no. Ah, no. C'è subito questo. Ah, ok. Allora, aspetta. Qua bisognava usare la batteria. non è bisogno. Aspetta. C'è lo spazio per una batteria. Ah, ero troppo spostato. Ah, qui, forse. Ok. Il carrello e l'elevatore siamo pronti per essere utilizzato. Premi il pulsante. Si, vedi, qua bisogna essere in due. Allora, uno preme il pulsante e l'altro va su. Ok. No, pensavo... Allora... E' più avanti. Ci sono gli zombie, va bene. Ok. Allora, Rebecca va su che è più leggera. Vado qui. Ok. Sì. Ecco. Sì. Che poi cosa ci fa qua la scheda? Non si sa. Ok. Attenzione. No, ho sbagliato tasto. Ah! Oh, vattene via. Let's go! Madonna. Lo spaccio di merda. Eh, gli ha fatto usare ancora due proiettili. Ma gli ha fatto... Fa vedere, gli ha fatto male. No. No. Sembrerebbe di no. Ok. Esamina. In ceneritore. Questa scheda sembra essere molto simile a quella utilizzata dai dipendenti dell'ombrella. Va bene. Eh... Lui cos'è che aveva? Ok. Ecco. Sempre meno colpi. Mi viene rimasto uno. Eh, vabbè. D'altronde, no? Dov'è la porta qua? Bisognava essere in due per forza. E lo sapevo, sarebbe... Cioè, me lo sentivo che... Mi sembrava strano... Non ci fosse nessuno. Un nemico dovevano infilarcelo per forza. Ok. Andiamo di qua. Adesso qua dovrebbe essere libero, però... Qua ci sono delle granate. Allora, fammi vedere se... La tessera magnetica la usiamo solo qua e poi ce la fa buttare. Perché se così fosse... Come la buttiamo, io torno indietro e prendo le granate. Ok. L'avevo già liberato. Vai, usiamo. Sì. Me la fai... Uso io. Ok. La salatura è stata bloccata. Non è più bisogno... Ok. Sì. Perfetto. Allora, adesso io me ne torno indietro. Seguimi. Seguimi, Billy. Che andiamo a prendere le granate acide. Che è meglio averle, anche se non sono ancora sicuro siano proprio il massimo, però... Cioè, non lo so, come forse avevo già detto, adesso non è che voglio ripetere, però... Non lo so, in questo Resident Evil Zero... Non mi sembrano così efficaci, eh. Cioè, non lo so. Cioè, per scoppiare scoppiano, però lo scoppio non investe gli altri. Questo mi fa strano. Vai, prendi. Cioè, magari sul singolo, sì, sono efficaci. Può dipendere come lo prendi. Ma... Con il gruppo... Cioè, in teoria dovrebbero essere tutti sbalzati via, invece... Delle volte non è accaduto. Ok. Andiamo a salvare, assolutamente. Abbiamo fatto un sacco di cose. Speriamo di non incontrare... Nessuno. Potrei... Vedere la mappa. Potrei lasciarlo... Per evitare che sprechi i proiettili... Potrei provare a lasciarlo qui. Che non mi va neanche che... Diciamo, lo metto in attivo. Perché comunque vorrei che si difendesse. Strano... È tutto libero. Allora, qui è tutto libero. Aspetta. Un passo alla volta. Un passo alla volta. Andiamo, Billy. È tutto libero. E là in fondo ho visto anche dei colpi... Fucile. Quindi va bene. Ottimo. Ok. Ah no, colpi magnum. Attenzione. Molto meglio. Però non ho posto. Mmm. No, li devo prendere, assolutamente. Allora, allora. Potrei fare così. Aspetta. Prendo questi. Sono otto. Piazzarolli. No, scambia. Combina. E ne rimangono cinque. Perché c'ho sempre il dubbio. La paura che... Perché potrei lasciarli qui. Siamo a un passo dalla stanza di salvataggio. Io ho paura che... Non lo so. Magari non mi fa tornare qui per questo... Vabbè, senti. Lasciamo qui. No, meglio i colpi magnum. Dei colpi... Delle granate. Però... Lasciamole qua. E speriamo. Mi faccia... Tornare indietro a prenderli. Ah, addirittura ha filmato. Uè... Che... Ah. Ah, questo è il suo vero aspetto. Wester e Birkin. Era l'unico di cui si fidava. Aveva... Avevamo trovato il... Ah, l'hanno scaricato. La sanguissuga è entrata dentro e l'ha riportato in vita. T-virus... pensa che la regina ha preso il sopravvento madò che brutto no ma io non pensavo ci fosse uno scontro così cioè io mi aspettavo tipo ok tu spara eh tipo una roba tipo il rospo no che mi da cioè mi da dei col cioè come le piantine ho tornato a prenderle però adesso avevo visto il rospo e ho detto no forse è meglio di no perché potrei morire male però questo è peggio vabbè andiamo di magnum ovviamente ovviamente aspetta come si ammette segui su ok noi siamo su attenzione ahia adesso non più non più esatto rischiamo basta 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 siamo su pericolo ok adesso non vedo oh si cavolo oh ma no ho finito i colpi li ho usati tutti aspetta billy e sua attenzione impossibile equipaggiare l'arma adesso aspetta siamo in un piccolo cieco tra l'altro andato oh no cavolo aspetta aia no mi ha preso eh vabbè cavolo eh si allora adesso che mi zega mi devo rifare tutto cioè per carità non è tantissimo eh se vogliamo però allora sto giro piuttosto eh si torno cerco di tornare indietro e salvo e salvo in quella stanza sicura l'ultima in cui abbiamo salvato beh si adesso che lo so potevo cioè potevo curarmi con con billy però vabbè niente dai rifacciamo basta rifacciamo e basta allora rieccomi qua dunque a sto giro è andata molto meglio ho usato di più billy ma nonostante ciò ho usato appena appena colpito una volta ma siamo comunque su ok eh alla fine ho deciso di non abbandonare adesso non mi ricordo cosa che avevo lasciato ah le granate acide avevo lasciato ok ma stavolta ho deciso di portarmene dietro e lasciare giù i salvataggi perché ho pensato magari nella stanza qua se riusciamo a battere marcus nella stanza i nastri ce li danno almeno uno e quindi salvo con quello che ci danno e poi vedo se riesco a tornare qui per prendere quelli che ho lasciato poi poi vediamo però non è la prima volta che ci provo ma ho visto che qua è meglio impersonare Rebecca perché è talmente fragile che l'intelligenza artificiale diciamo lascia che mi è anche colpita parecchie parecchie volte lei ha due cure le lascio due cure tanto Billy è un toro spero resista bene e noi andiamo lui però è su fammi vedere attacco ok gli ho equipaggiato il lanciagranate quindi vediamo un po' usiamo tutti i colpi di magnum che possiamo come prima ok la telecamera aia ma hai un un raggio d'azione te aspetta fine una scarica di colpi gli ho dato allora aspetta facciamo così basta uno ok poi ah Rebecca è su attenzione vabbè facciamo così madonna attenzione aia no Rebecca alzati però fammi vedere fammi vedere uuuu allora scambio possibile attenzione facciamo così scambia ah non ha più colpi aspetta una ah non mi fai cambiare personaggio porca va mi deve ricaricare ma facciamo così ok dimmi ah no ok me lo fa cambiare forse non ho nella fretta allora facciamo così ok 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 e facciamo così toto ho ricaricato anche l'arma eeeh andiamo di pistola ci rimasta solo quella noi ok ma cazzarola ma vuole morire cioè c'è ecco no dove spari Rebecca oh mamma mia di tutto gli ho sparato addosso c'è sarà morto eh abbiamo c'è anche sto dubbio allora come siamo messi su ok un colpo a Rebecca un colpo solo e allora facciamo così aspetta eh poverina facciamo almeno non è in difesa fammi impersonare Biglia me scambia equipaggia ok chiavetta si questa prendimela si ok cosa c'è qua ah ma qui potevo ah eh vabbè no ma forse l'avevo anche visto dalla mappa però vabbè durante lo scontro spari e basta ok soprattutto puoi gestirne due cos'è qua c'è una serratura sembra che funzioni assieme al dispositivo ah si ok forse devo aprirla in sincronia devo vedere una chiave dalla forma particolare una piccola D è stata incisa sulla placca argentata ah D di destra ok dico bene una chiave una piccola S è stata ok allora questa la diamo a Rebecca quindi facciamo così op ok facciamo usa usa ottimo ok aspetta ecco qua ci danno colpi pistola però noi ah 30 vabbè vabbè teniamo il lanciagranate come arma secondaria Billy ha il no seguimi va oh la mad oh la madonna sono rimasto un po' così va bene e ok mi sa che si rialza va bene ho capito fa vedere allora ci organizziamo un attimo dunque sì però il allora il fucile a pompa lo lasciamo a a lui sì dai Rebecca tiene pistola più lanciagranate ok fammi vedere e siamo pieni Magnum siamo a zero diamola a lui così ci facciamo guarda ci facciamo prendiamo tutto 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 prendo combino queste ah no eh aspetta aspetta un attimo eh che sono pieni scambia un attimo ok scambia ok adesso scambia ok combina oh e abbiamo una cura poi facciamo che ovviamente devo dare a Rebecca oddio però sì dai vediamo a Rebecca e sì perché se no se no poi Rebecca cioè con 15 colti più 6 è un po' in difesa meglio darle lanciagranate e ci prendiamo entrambi gli spray con poi al limite durante lo sconto gli ne passo uno esatto e la curo ok perfetto ho preso tutto io direi che possiamo anche salvare ah però è vero aspetta lì c'è un salvataggio lo facciamo così abbandona un attimo prendo il salvataggio vediamo quanti sì salvo ovviamente tre ce ne danno generosi allora facciamo sì salviamo eh però devo lasciarlo qui qua c'è il salvataggio devo lasciarlo qui adesso lo dobbiamo riaffrontare ok non posso portarmelo dietro fammi vedere la mappa un attimo perché ah ecco primo primo piano s5 oh eh no non riesco a capire se dopo c'è un altro no perché la mappa del dello stabilimento l'abbiamo presa quindi in teoria dovrebbe averci dovrebbe mostrarci tutte le aree infatti questa non ci siamo stati ma c'è la mostra comunque non so se lasciarlo qui senti io io lo lascio qui rischiamo vediamo cosa tanto ho salvato quindi al limite se perdo rifaccio da qui no la granata le voglio assolutamente e anche e anche più munizioni possibili ok salvato perfetto lui mi segue infatti in modalità attacco ci siamo praticamente ricaricati abbiamo un sacco di colpi fucile ottimo non male cioè piattaforma c'è una leva per il controllo dell'ascensore potresti servirtene per fuggire sì eccolo sì sì la regina non muoiono mai alla prima botta ah pure sì ecco chi ha attivato il sistema autostruzione come on può questa cosa muove più vele Eeeh E quindi Aia è più incazzato Oh c'è pure il tempo Aspetta no andiamo di Eeeh faccia Eh no al comando Rebecca Lui tanto c'ha il fucile Ok Andiamo andiamo Ma spara però Perché non spara Billy Beh facciamo così Ok Guarda che non spara Non spara Oh madò Aia Aia Ah Sono scarico Aspetta Porca Siamo su attenzione Si è incantato un po' eh Il nostro Billy Aia aia aspetta 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 Che non Eh no non mi fido Io la prendo la cura Ok Ci ha rinchiuso Ok Non mi ha preso Adesso si C'era con Billy Quante cose abbiamo Una Madonna mi ha chiuso dentro Aspetta 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 aspet dimmi di sì lo sta facendo oddio no no bisogna fare eh apri apri E guarda Sua maestà Ma non hai di funzionamento Ma no dai Pensavo che era fatta Non hai di funzionamento nel cancello Per aprire degli porto nel caso di emergenza Scrivi le istruzioni qui sotto Sbloccare la sicura Nella stanza ci sono 4 meccanismi di chiusura Che devono essere attivati in questa sequenza Pure Lato sud ovest Lato nord ovest Sud est Lato ovest Girare le manie di ciascun meccanismo Per sbloccare il cancello Sì vabbè Va bene Ma ci sta Ma ci pensa lei vero Cioè io Aspetta E no la controllo comunque Lei Posso Non posso scambiare Perché sono distante Le palle Sta bestia Adesso sono vicino Ok 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 Facciamo Eh ho pochissimi colpi Usa Combina Non hai Cioè non hai della vita tu No eh Poco ha fatto Sì ma ora che Vai vai Rebecca Pensaci tu Io continuo a sparare Guarda 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 che non sa com'è Dai Rebecca Aspetta Ho due colpi Ah Non posso far più nulla Eh sì Ciao È già equipaggiato Vabbè Non sto capendo più niente Dai Dei colpi Dei colpi Due Aia Mi servono delle cure Delle cure Sono qui Ce l'ha con me vero Ehi tu Dove sta No Porca di questa Basta Come Come attiro La mia Come attiro L'attenzione Guarda guarda Stabiliti qua Vieni qua Vieni qua Vieni vieni Sono di qua Sono qua Sono buono Dai Rebecca Vai manca uno Dai Rebecca Gira Gira quella valvola Con la leva Con il cavolo Che è Questo andando Scusate Rebecca resisti Non ho più nulla Dove sta andando Qua Ok Aspetta Rebecca Rebecca Dammi la tua pistola Scambio possibile Scambia Così Tutto No Tutto Vabbè Ancora Dammi tutto Sì ok Equipaggio Equipaggio Oh cio Resisti Rebecca Dai Sono qui Ok ok Lo sto attirando Vai 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 Ok Billy resisti Oh ce l'ha fatta Dai Ce l'abbiamo fatta Ma siamo in fin di vita Siamo una pistola Che pistola è Scusate Queenie La madonna E' un cannone Non è una pistola Cioè Cioè Eh Oh E l'istituto Ha fatto la fine Della villa Anzi Non ancora Perché la villa È ancora in piedi Eh Alla fine Ce le siamo tolte Le malette Hey That must be the old mansion That Enrico Was talking about Si ma si Se io ero Rebecca Me ne andavo A piedi Piuttosto Eh Eh I Guess It's time To say goodbye Officially Lieutenant Billy Cohen Is dead Ah Sì Sono solo un zombie Ora Vabbè Quindi Vabbè Giustamente Ci sta Dai Cioè Lo lasciamo andare Però noi Cioè Rebecca va in un altro incubo Se è per questo Eh Vabbè Grazie Rebecca Ebbè Abbiamo finito Anche Resident Evil Eh Non è stata una passeggiata Insomma Devo dire che A tratti È stato Soprattutto Vabbè L'inizio Che sei Spaisato Non sai i comandi Eccetera È stato più Più dura Ovviamente Avendo scelto la difficoltà Ma questa è appunto Una cosa Che ho scelto io Di darmi un po' La zappa sui piedi Quindi Nonostante Non conoscessi il gioco Ho voluto rischiare E Il primo impatto Però è stato Veramente Duro Molto duro Più di una volta Sono Arrivato in Praticamente In fin di vita Più fasi Vabbè Però Nonostante tutto Mi sono divertito È stato bello Come il primo Alla fine Hanno Praticamente L'han fatto uguale Se vogliamo Al primo Ovviamente Ha cambiato Cambiato Hanno raccontato Un'altra storia Oppure Il prequel Anzi Sì Un'altra storia Nel senso Il prequel Del primo Quindi abbiamo Abbiamo visto Birkin Abbiamo visto Wesker Prima Della Villa Abbiamo Conosciuto Abbiamo avuto Il piacere Di conoscere Il signor James Marcus Che si è Allungato un po' La vita Praticamente In un certo senso Sì Oddio È stata La sanguisuga A farlo Che ci ha messo Dieci anni A infettarlo Però Vabbè E Ok No Bello Mi è piaciuto Mi è piaciuto I comandi Sono un po' Cioè Non ci si abitua Mai bene I comandi Sono veramente Scomodi Almeno per quanto Mi riguarda Anche Anche col primo Però col primo Appunto Come per tutti i giochi Magari fai un po' Più fatica Perché comunque È impostato In maniera Vecchia Se vogliamo Per quanto Il gioco dice Che i comandi Sono in stile Moderno Però poi Ti abitui E quindi Non ci fai più caso Ovviamente Invece qua Fai veramente Fatica Infatti Anche adesso Sì Ormai un po' Vabbè Mi sono abituato Però Nonostante ciò Magari errori Nei comandi Li facevo ancora Poi Aprire la mappa Col Con 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 Strani Oltre che Scomodi Altro Che dire No Adesso non so Adesso vediamo Le La valutazione Finale So Proprio Di Vederla Ma Probabilmente Saremo Stati Sulla Falsa Rega Del Primo Alla Prima Run Forse un po' Di più Visto che L'ho scelto La difficoltà Difficile Però Nonostante ciò Mi sembra Veramente Ad aver giocato Tantissime ore Almeno una ventina Se non di più Cioè Veramente L'impegno È stato Così tanto Che mi sembra Vente Di aver giocato Tanto Ma secondo me Forse Se arriviamo A 15 E tanto Probabilmente Adesso Vediamo Vediamo La storia È una bella storia Alla fine Si collega Perfettamente Con Ovviamente Con il resto No con il seguito Se poi vogliamo Anche se questo È stato Fatto dopo Sono andato a leggere Velocemente E se non sbaglio La prima versione Di sto gioco Uscì solo per Gamecube Era un'esclusiva Gamecube E poi l'hanno fatta Nel 2016 Per PC sicuramente Poi non so Che altri Piattafone Forse PS4 Xbox Non saprei Non saprei E Non saprei dire Se Devo ancora vedere Se YouTube Me lo dà come Remastered O come Remason Non è come Remastered Lo dà Vabbè In ogni caso L'hanno Sicuramente Non ho mai visto L'originale Però secondo me L'hanno L'hanno Trasposto bene Tutto sommato Sì sì Anzi Rispetto al primo I fondali Diciamo L'ambiente Graficamente È veramente Migliore C'è molto più Definito Molto più Bello Se vogliamo Invece Nel primo È una via È una via Di mezzo Tra penso Tra L'originale E la Remastered Non hanno Non ci hanno messo Molto mano Per quanto riguarda Lo sfondo Degli ambienti Per quanto Comunque Definito sia Però questo È ancora più Definito E niente E no E poi vabbè La gestione Dei personaggi Insomma È stata una difficoltà In più Per quanto mi riguarda E rende il gioco Un po' più difficile Del normale Praticamente Sì sì Vediamo un po' D Eh vabbè Ovviamente 101 nemici Eliminati 663 colpi Sparati 25 cure 23 salvataggi Ah visto Ha il tempo Il tempo effettivo 9 ore 36 Ancora meno Del primo Della prima run Del primo E però Ve lo dico Cioè ve lo giuro A me sembra Di aver giocato Più di 20 ore Vabbè Però Poco Pensavo Oltre le 10 Invece neanche 9 ore e mezza Praticamente Vabbè La modalità Leech hunter È ora disponibile Non so cosa sia La modalità Wesker È ora disponibile Salviamo Ovviamente Sì no Per me Per me Per me è chiuso qua Il gioco Nel senso Non c'è un altro personaggio Quindi una seconda run Non ne vedo Per quanto mi riguarda Non ne vedo il motivo Ok Qua l'abbiamo giocato Anche la difficile Quindi Basta così Andrò a leggere Cos'è la modalità Leech hunter Per curiosità E basta Ah sì Vabbè Il formato Iniziale Così Giusto per Ecco Vabbè Però A fine Marco Se vogliamo Non Non aveva Tutti Torti Nel senso L'hanno ammazzato Come minimo Uno si vuole Vendicare Però certo Non Non sparge Tutta quella roba Che ha sparso Lui in giro Per La zona Mettendo di mezzo Anche degli innocenti Vabbè Che Gli ne fregava poco Probabilmente E Inoltre Abbiamo capito Chi è stato A Diffondere Appunto Il virus T Dappertutto Se vogliamo Anche alla villa Quanto ho capito Quanto ho capito È stato Lui a diffondere Sia l'istituto Che quindi È una Zona Separata Alla villa E la villa Diffondere il virus T Dappertutto E contaminare tutto Ammazzare tutti Cioè lui c'era Con l'ombrella Però Non penso che All'ombrella Ne freghi molto Le dipendenti Quindi vabbè Ok dai Io spero Che questa serie Sui identitivi Zero Vi sia Piaciuta Ma come ho detto Il gioco è piaciuto Non trovo Appunto Difetti Non ho trovato Difetti Di particolare Rilevanza Si al limite Qualche impedimento Qualcosa di scomodo Come ho già detto Il fatto che per me Gestire due personaggi Non sia di base Così immediato Diciamo E quindi Spesso Durante questo Questa partita Avrò fatto sicuramente Anche errori Di cui non me ne sono reso conto Che potevo non fare Per la questione Del doppio personaggio Pazienza Quello che è stato È stato L'importante È averlo completato Spero che la serie Vi sia piaciuta Io vi ringrazio Sempre per supportarmi E seguirmi E noi Ci risentiamo Alla prossima serie Cosa che probabilmente Sarà Resident Evil 5 A questo punto Tralasciando il discorso Resident Evil 6 Che pare sia brutto Da quello che ho visto Mi sembra vero Non mi sembra Granché Fin troppo action Insomma Eccetera 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 Non sto qui A dilungarmi troppo Il 5 è l'unico Che ci manca Se vogliamo Quindi mi sa Che ci vedremo Proprio con Resident Evil 5 Io vi saluto Vi ringrazio ancora E noi ci risentiamo Su Resident Evil 5 Ciao a tutti Ragazze e ragazzi Ciao a tutti